Eccolo, forse è in collegamento. Buongiorno al dottor Giovanni Luciano. Ciao, buongiorno. Sì, per tutti, non c'è stato un più troppo uomo in collegamento, non c'è stato un altro ospite, quindi siamo un po' imbreccati. Va bene, va bene. L'importante è riuscire ad aprire questa bella giornata di confronto e di approfondimento su un tema molto sentito, quello appunto del riconoscimento da parte dell'Inail, quindi dell'estensione della tutela Inail ai medici liberi professionisti. È un tema molto sentito tra i medici, è inutile che sto qui a fare il sindacalista dei medici, la questione la conoscete bene. Quali possibilità? Come sono le carte in tavola? Poi cercheremo nel corso della trasmissione con gli altri collegamenti di costruire gli altri tasselli del tema. Prego, Luciano. Guarda, Sebastiani, la questione dell'ampliamento della tutela degli assicurati da parte dell'Inail è un tema, l'abbiamo già parlato anche con voi, è un tema che vede l'Inail, il CIV in testa, ma devo dire anche la tecnostruttura, l'istituto, il presidente dell'istituto, completamente d'accordo per far sì che i 3 milioni e mezzo di persone che lavorano in Italia, che non sono ancora per vari motivi coperti dall'assicurazione di Inail, possano avere questa tutela. Poi evidentemente l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha fatto scoppiare ancora di più un'emergenza rispetto ai medici, quindi a che punto è la situazione? La situazione è molto semplice, sono stati degli incontri in teleconferenza, perché in questo periodo si fa solo così, tra la direzione prestazione dell'Inail con l'Enpam, la FNOMCEO e la FIMG, adesso al di là degli acronimi che sono un po' a dirgli così, non sono molto scorrevoli come pronuncia, ma è evidente che sono le associazioni di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri e anche dei medici di medicina generale e quindi queste 3 associazioni si sono incontrate, si è aperto un tavolo di lavoro per valutare tutte le possibilità, per far sì che si possano creare le condizioni normative ovviamente, perché poi ci vuole una norma che modifica il testo unico del 1965, come è stato per i rider, per far sì che possano essere inclusi anche loro. Dicevo, sia noi che lì nel complesso siamo d'accordissimo, ma tanto è vero che devono essere d'accordo ovviamente le categorie interessate, nel senso che non possiamo dargliela, diciamo, beh ti do l'assicurazione obbligatoria, l'assicurazione obbligatoria, scusate il gioco di parole, ci vuole appunto una fase di confronto, come c'è stata con i vigili del fuoco, che ahimè purtroppo temo che si sia arenata. Però rimanendo ai medici siamo a questo gruppo di lavoro per approfondire tutte le soluzioni, per trovare la copertura assicurativa da parte di Inai. Certo, tra l'altro si tratta anche di individuare delle precise procedure che abbiano una certificazione, una garanzia, le famose pezze d'appoggio, giusto? Esattamente, non voglio entrare negli aspetti tecnici, ma evidentemente bisogna compatibilizzare il quadro assicurativo e previdenziale di queste categorie, di questa categoria in particolare, con le norme dell'assicurazione obbligatoria contro le infortuni sul lavoro, le malattie professionali, che invece regola tutto il resto del mondo. E quindi è una questione che deve intrecciare gli aspetti di tutela, che sono quelli che sono noti, quello che fa l'Inel è noto, rispetto appunto a quanto paga, quanto è il rischio, come viene calcolato il rischio, come viene calcolata la tariffa, insomma tutto quello che c'è e in più mi permetto di riflettere su un aspetto. In questa fase ovviamente ci dovrà essere anche, e credo che sia magari la cosa più delicata, una sorta di fase di transizione, perché questa cosa avviene non in tempi normali, ma avviene nei tempi nei quali si è evidenziata che c'è questa carenza, viva Dio qualcuno se ne è accorto, purtroppo se ne è accorto per fatti drammatici e quindi ci vuole una specie di fase di raccordo che non sia una tutela che parte tra, questo lo dico io, che non sia una tutela che parte tra un anno, perché sì, sarà sempre utile, ma penso che ci sia urgenza. Dottor Giovanni Luciano ci abbia dato delle indicazioni molto utili, insomma ha squadernato un po' quello che è il perimetro di questo tema, dicevamo fase di transizione, calcolo del rischio, le tariffe, tutto con una parola compatibilizzazione, ecco che vuol dire cercare un po' di rendere tutto in maniera armonica e soprattutto equa per tutti gli attori che partecipano a questo confronto. Allora io direi regia di chiamare a questo punto il dottor Bruno Giordano, sentiamo anche da lui che insomma sempre il suo mestiere è quello di magistrato della Corte di Cassazione, insomma si occupa molto, si è occupato molto dei temi legati al lavoro e sicuramente ci darà qualche arricchimento interessante anche su questo tema. Certo, appunto come ci diceva dottor Luciano poco fa, siamo un po' nel pieno, quindi questo da una parte ci dà un limite superiore e un limite inferiore, cioè ci dice da una parte che le remore vanno abbandonate, dall'altra però non bisogna prendersela troppo comoda per fare in modo che queste regole poi vengano implementate. Ecco il dottor Giordano che salutiamo, buon pomeriggio. Buongiorno. Io ci leggo a sottolinearlo, Giordano è al suo primo Skype, quindi da oggi pomeriggio inaugura questo strumento. C'è sempre una prima volta. Bene, allora dottor Giordano, che dire, poco fa il dottor Giovanni Luciano ci ha spiegato insomma quali sono un po' gli elementi in campo per fare in modo che poi si apra questa estensione della tutela ai medici liberi professionisti. Certo appunto da una parte la cronaca questo ci sta dicendo, dall'altra però diceva giustamente Luciano non è il caso di andare troppo là coi tempi. A lei la parola dottor Giordano. L'assicurazione sul lavoro in Italia gode di un istituto già dai primi del Novecento che è l'Inail, l'istituto pubblico di assicurazione e di questo possiamo essere orgogliosi perché è la più grande assicurazione pubblica sul lavoro che c'è in Europa. In questo caso siamo i primi sia come qualità dei servizi e sia come istituzionalizzazione della assicurazione pubblica sul lavoro. Vorrei ricordare, ed è proprio questo il momento tragico per ricordarlo, che assicurazione pubblica vuol dire che nel nostro sistema l'infortunato, il lavoratore che subisce una malattia professionale viene innanzitutto immediatamente indennizzato e poi l'istituto assicurativo si rivale o meno sul datore di lavoro o su altri soggetti che avrebbero concausato o che comunque hanno la colpa di questo infortunio. Se c'è una colpa del datore di lavoro, ovviamente. Ora, mi pare che questa sia proprio l'ipotesi di cui ci stiamo occupando in questi giorni. Stiamo vedendo che il bollettino di guerra purtroppo segna numeri in crescita per gli operatori sanitari e i medici che si ammalano a causa del coronavirus. E purtroppo in alcuni casi anche si arriva al decesso. Allora vorrei sottolineare questo. Se stiamo in questa situazione, vi è una ipotesi tipica di malattia professionale. Mi chiedo perché i medici, gli operatori sanitari o almeno i medici non dovrebbero essere assicurati anche dall'INEL in questo caso. È una questione aperta come per altre categorie, ovviamente. Ma ricordiamoci che se questo sta accadendo è perché i medici fanno parte. I medici e tutti gli operatori sanitari. Vediamo che non solo gli operatori sociosanitari, ma gli assistenti e anche i volontari, cioè coloro che non sono legati da nessun rapporto di lavoro, purtroppo per mancanza di misure di prevenzione e di protezione, stanno patendo le patologie di cui parliamo ormai da qualche mese. Vorrei ricordare a me stesso che quando si parla di responsabilità, si parla di prevenzione, ovviamente. Anche la responsabilità assicurativa è fondata sulla prevenzione, se c'è stato o meno prevenzione. Ma la prevenzione non è, come qualcuno vorrebbe far credere anche in queste ore, semplicemente la adozione dei dispositivi di protezione individuale, perché prima ancora che dei dispositivi di protezione individuale, ci sono i dispositivi di prevenzione individuale. E la prevenzione nel nostro sistema, soprattutto il sistema sanitario, come ci spiegano da anni gli esperti di rischio clinico, si fa innanzitutto con l'organizzazione sanitaria, cioè organizzando un servizio che va dal triage fino alle dimissioni e costituito da una serie infinita di passaggi, di segmenti del processo lavorativo, che non è soltanto quello terapeutico, è quello preventivo, quello protettivo e quello diagnostico anche, oltre che quello terapeutico. Allora, in breve vorrei sottolineare questa cosa. Perché sta accadendo questo? Vedete, chi ci ascolta ricorda benissimo che negli ultimi dieci anni si è discusso moltissimo di medicina preventiva e soprattutto all'interno di questa di medicina difensiva, cioè i medici ricorrevano per difendersi dai procedimenti penali per lesioni a una serie infinita o ampia assicurativa, in qualche modo difensiva, di accertamenti diagnostici o iter terapeutici proprio per difendersi da eventuali responsabilità. Beh, forse i medici dovevano difendersi non dalla magistratura ma dalla politica, perché chi ha investito il nostro sistema sanitario nazionale ovviamente si è assunto delle responsabilità tipiche in questo caso. Ne vorrei elencare una, perché tutte queste responsabilità oggi ricadono anche sul profilo risarcitorio e sul profilo indennizzatorio che fa carico all'Istituto Assicurativo o ad altre assicurazioni. Non dimentichiamo che quasi tutti i medici, io penso tutti, ma quasi tutti i medici hanno anche un'assicurazione privata sul lavoro. Quindi il tema di cui stiamo parlando non riguarda soltanto l'assicurazione pubblica, riguarda comunque il rapporto assicurativo tra istituto assicurativo, persona che patisce una malattia o persona che eventualmente viene attinta da questo, perché a sua volta chi ha patito una malattia, un contagio, è probabile che nel servizio sanitario lo abbia trasmesso ad altri colleghi o a sua volta ad altri pazienti. Quindi vi è una catena condizionalistica molto complicata. Allora, Dottor Luciano, Giordano ha posto una domanda, ma chiaramente è stata posta in forma retorica, non in forma giornalistica. C'è il grande tema delle categorie professionali, che sembra di capire anche dal quadro che ha dato Dottor Giordano, però arrivano in una situazione ad oggi nella sanità, ma il discorso potrebbe essere esteso anche ad altri settori, che è diventata improvvisamente ad alto rischio per gli stessi lavoratori. E quindi da questo punto di vista si abbassa un po' quel margine di professionalità in base al quale poi l'assicurazione doveva essere del singolo professionista. E invece si apre tutto un altro capitolo. Ecco, Lina, l'ho affrontato il tema anche da questo punto di vista. C'è questo salto? Stiamo facendo questo passaggio d'epoca? Guarda, Sebastiano, io ripeto quello che ho detto prima. Da parte dell'Istituto, io poi sono il Presidente del Consiglio Indirizzo e Vigilanza, quindi posso parlare per quanto riguarda il mio organismo, ma ho contezze che da parte dell'Istituto tutto non c'è assolutamente alcuna contrarietà a far sì che l'INE venga applicata a tutti i lavoratori, a tutte le persone che prestano lavoro in Italia, dipendenti o no e non. Stiamo parlando dei medici, non so quanti sono in termini di milioni le persone che hanno la partita IVA, quelle che prendono i 600 Euro di adesso, che non sono assicurate dall'Ine, ma ovviamente non per una questione di non volontà dell'Ine, per una questione che io sono d'accordissimo su tutto quello che ha detto il Dottor Giordano, lo sposo in pieno, ma è su una questione di testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali DPR 1124 del 1965. Qui abbiamo un magistrato che si occupa di queste cose, non mi permetto. Diciamo che personalmente ritengo questo testo unico persino anticostituzionale, in virtù dell'articolo 38, perché questo testo unico dice chi è assicurato dall'Ine e chi no, e sono anni che il CIV dell'Ine fa la battaglia per far sì che questo testo unico venga adeguato. Abbiamo l'esempio dei Raider, abbiamo dovuto fare, non solo noi ovviamente, anche le parti sociali, gli stessi lavoratori del settore, una battaglia epocale per far sì che gli si applicasse almeno l'assicurazione dell'Ine. Quindi io sono d'accordissimo in una trasformazione dall'assicurazione tra virgolette privata. Io faccio l'esempio, probabilmente improprio, ma per farmi capire. Io dentro casa ho un figlio che fa il fisioterapista a Bologna, privatamente, a partita IVA. Questa persona, che potrebbe essere replicata forse fino a 2 milioni di individui, non è libera, non ha la facoltà di pagarsela l'Ine, perché non è assicurabile dall'Ine per il quadro normativo vigente. Quindi sono d'accordissimo, dottor Giordano. Deveva avere trovare la volontà politica affinché il Parlamento modifichi questa roba. Non è l'Ine che lo può fare di suo. Certo. No, ma infatti che ci sia un passaggio d'epoca, questo è indubbio. Bisogna fare modifiche sostanziali, a meno che Giordano non abbia un'altra soluzione, perché poi appunto si occupa talmente in maniera specifica di questo tema. Non lo so, sentiamo da lui se c'è un'altra strada. No, perché giustamente come la posta del dottor Giovanni Luciano, poi alla fine qui si riapre il capitolo dei tempi, visto che bisogna passare per una qualificazione del Parlamento e diventa davvero ardua la cosa. Prego, dottor Giordano. Sì, ha ragione il Presidente Luciano, perché il ritardo del Parlamento, del legislatore, in questo caso, in questo settore, non soltanto è pluridecennale, quindi non faccio nessuna valutazione politica, ma il dato cronologico è di per sé una imputazione di responsabilità, ma è anche un dato purtroppo comunque tardivo, perché ancorché oggi pomeriggio venisse adottato un decreto legge... Si è bloccata la linea Skype di Giordano, proprio sul punto più interessante. Ci sarà un motivo che qualcuno... Si stava per dare la soluzione, dottor Giordano. Si sente, devo ripetere? Prego, prego. Anche se per ipotesi noi avessimo un decreto legge che oggi pomeriggio dicesse che l'assicurazione Inel viene estesa alle categorie di cui parlava il Presidente Luciano, comunque non potrebbe retroagire. E quindi potrebbe valere come tutte le leggi da oggi in avanti. Quindi comunque vi è un ritardo di cui come sempre o come spesso in Italia ci si accorge quando si è nel pieno di una emergenza, come per altri settori. Quindi io condivido e sottoscrivo quello che è stato appena detto sulle lacune normative in questo caso, che non riguardano solo queste categorie, ma è stato fatto l'esempio di altre categorie che sarebbero ben contenti di accedere e di confluire nell'assicurazione pubblica, perché ovviamente l'assicurazione pubblica ci dà le migliori garanzie di servizio, di qualità e soprattutto di copertura assicurativa. Vorrei comunque aggiungere, se ho ancora pochi secondi, a questo riguardo che il tema della sicurezza degli operatori sanitari non è un tema che da molti, tra cui chi vi parla, viene sollevato soltanto nelle ultime settimane. Lo abbiamo detto da moltissimi anni, in particolare da quando è entrato in vigore il decreto 626 nel 1994, abbiamo evidenziato che il sistema sanitario rappresenta sia quello pubblico sia quello privato una grave anomalia in materia di sicurezza, perché non soltanto è il sistema che deve dare sicurezza e prevenzione agli altri, il sistema sanitario è quello che comprende e governa, disciplina il servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro e questo quindi dovrebbe essere il servizio più sicuro di tutti gli altri, ma i fatti stanno dimostrando che così non era. Colgo l'occasione per ripetere una denuncia che facciamo insieme ad altri, sono per fortuna in buona compagnia, dal 1994, cioè da quando si è istituito il vecchio testo unico sicurezza del lavoro, il decreto 626 e poi nel 2008 con il nuovo testo 1, e cioè che i servizi generali in materia di sicurezza del lavoro per la prevenzione sono affidati ai servizi delle ASL in tutta Italia, quindi i servizi delle ASL devono controllare tutti i luoghi di lavoro, tranne alcuni riservati ad alcuni servizi speciali e particolari, ivi compresi gli ospedali, ivi compresi le strutture sanitarie. Questo significa che i dipendenti di una ASL, gli ispettori di una ASL devono controllare i loro datori di lavoro. Qui non si tratta di far coincidere i controllori e i controllati, ma addirittura che i controllori sono sottoposti ai controllati. Ma voi ve lo immaginate un ispettore della ASL che sale al piano superiore e denuncia per tutte le mancanze in materia di sicurezza il suo datore di lavoro che è il direttore generale della ASL. Ovviamente questo è molto difficile, è un'incompatibilità, un conflitto di interessi che non va nemmeno spiegato. Alcune ASL hanno provveduto scambiandosi questi servizi, cioè la ASL A controlla la ASL B, la ASL B controlla la ASL C e così in modo circolare, ma rimane comunque un conflitto di interesse. Al di là di questa soluzione originale, genuina, spontanea, ma non normativa. Come tra l'altro accade con le procure, è vero dottor Giordano? C'è questo sistema giurale. Certo, questo però è previsto dal codice di procedura penale, per cui nel caso in cui ci siano degli uffici giudiziari coinvolti attivamente o passivamente come magistrati imputati o magistrati le vittime, se ne occupa il distretto di corte d'appello più vicino, in modo reciproco. Volevo chiedere al dottor Luciano se questa contraddizione, questo paradosso che c'è nel sistema sanitario ha una qualche rilevanza poi per ingegnerizzare la fase di transizione. Immagino che l'abbiamo discusso, perché questo ha una ricaduta sul calcolo del rischio e quant'altro. No, mi dispiace, ma di questa cosa ovviamente non è che sta in discussione che può fare un istituto come l'Inel. Mi sento anche in questo caso di sposare appieno l'illustrazione del dottor Giordano, però è evidente che se l'architettura è quella, poi nella mia esperienza in Inel ho avuto modo appunto di registrare questioni di questo tipo rispetto al responsabile di spresa con i quali magari apri un rapporto e ti rendi conto che c'è l'amianto nei tubi che coibentano il sistema di riscaldamento di un ospedale nel sotterraneo, dove passano gli infermieri, i portantini, le lettiche, i malati e quant'altro. E c'è tutta una situazione che poi spesso, troppo spesso, ma fa parte dei guasti di costruzione, di una sorta di architettura. È evidente che possono esserci dei problemi, ma non posso sicuramente esprimermi in merito a quello che è, posso esprimere un'opinione personale, ma non credo che sia questo il caso. Allora, stiamo per far entrare nella nostra trasmissione il dottor Domenico Della Porta, medico esperto in sicurezza degli operatori sanitari per la FNOMCEO, già consulente della Commissione parlamentare sugli infortuni e morti sul lavoro. Allora, dottor Della Porta, pronto? Pronto, pronto, ci siamo. Buon pomeriggio, eccolo qui. Allora, stiamo appunto discutendo di questo grande tema dell'estensione della tutela INAIL ai medici liberi professionisti. Da una parte appunto il dottor Giovanni Luciano, presidente del CIVI INAIL, ha sottoscritto tutta la disponibilità dell'INAIL che in qualche modo ne ha cominciato a parlare e il dottor Giordano ha messo, come fa spesso nei suoi interventi qui a Radio Almi, un po' il dito nella piaga di una situazione non più sostenibile. Del resto, la legge che in qualche modo prevedeva l'esclusione, o meglio la non-inclusione, dei medici professionisti nella copertura INAIL è già datata da qualche tempo. Nel frattempo il quadro è profondamente cambiato, insomma, la sicurezza dei medici, il sistema ospedaliero e più in generale il sistema sanitario è stata messa a dura prova proprio nell'emergenza del coronavirus. A lei la parola, dottor Della Porta. Sì, grazie, grazie. Innanzitutto precisiamo, ecco, la mia condivisione piena sia al presidente del CIVI, il dottor Luciano, ma soprattutto al professore Giordano, Bruno Giordano, verso il quale io nutro pure una stima veramente incondizionata, è uno dei maggiori esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che abbiamo nel nostro paese. Quindi condivido pienamente le sue preoccupazioni, le sue perplessità, come ancora non ci sia stata questa estensione ai 66 mila medici, tanti sono, 66 mila medici convenzionati, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, medici della continuità assistenziale e una buona parte dei medici delle guardie mediche. Si tratta di colleghi che veramente sono esposti a tutto, senza avere questa indispensabile copertura che potrebbe essere appunto assicurata dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Io sono stato uno dei primi a sollevare anche in ambito giornalistico la questione, perché i colleghi convenzionati, i cosiddetti convenzionati, svolgono più o meno la stessa attività dei colleghi dipendenti. C'è stata perfino una sentenza della Cassazione di due anni fa, del 2018, che ha appunto indicato per questi colleghi un lavoro parasubordinato. Parasubordinato, come dice la stessa struttura centrale dell'Inail che si occupa dei rapporti assicurativi, si tratta di un rapporto che è quasi sovrapponibile alla dipendenza. Parliamoci chiaro, i medici convenzionati sono sottoposti a direttive specifiche e reiterate nello svolgimento dell'attività lavorativa. Sono sotto la stretta vigilanza sulle loro prestazioni lavorative da parte del ASL, hanno l'obbligo di rispettare l'orario o i turni di reperibilità, hanno l'obbligo di pianificare le serie, hanno una retribuzione che è svingolata dagli obiettivi, tipica del pubblico dipendente. In effetti tutto questo fa riconoscere a questi colleghi convenzionati, cosiddetti convenzionati, proprio il diritto della parasubordinazione. Eppure l'Inail sta manifestando disponibilità. Che cose succede? Qual è l'ostacolo? Penso che ostacoli non ce ne siano, perché si tratta soltanto che il problema dovrebbe arrivare alla SISAC. Non so se quelli che mi hanno preceduto hanno citato questa nuova struttura, la SISAC, struttura interregionale dei sanitari convenzionati. Si tratta di una struttura pubblica che è stata istituita nel lontano 2002, è formata da tutte le regioni d'Italia e gestisce proprio i contenuti degli accordi collettivi nazionali di tutte queste categorie dei medici convenzionali. Benissimo. Tutto sta a far arrivare a questa struttura, ecco, questa esigenza, da parte delle regioni, da parte delle sigle sindacali, che compongono comunque questo tavolo di concertazioni, per arrivare al riconoscimento dell'assicurazione INAIL a questi soggetti. Conviene anche al datore di lavoro, che è pubblico. Perché? Perché conviene in quanto con l'assicurazione INAIL non devono più entrare nel sistema di ricercare delle compagnie assicurative per garantire quel rischio o quell'altro rischio. Con l'INAIL si ha la sicurezza di avere appunto una garanzia assicurativa completa, come tutti gli altri dipendenti pubblici. Certo. Mi sembra appunto una scheda e un profilo molto, molto chiaro che ci consente insomma di aggiungere un altro tassello importante. Allora, una breve replica da parte del dottor Luciano e del dottor Giordano e chiudiamo appunto questa prima pagina grazie all'intervento del dottor Della Porta. Prego, Luciano. Sì, una battuta. Il dottor Della Porta ha praticamente dato forma nelle mie preoccupazioni iniziali quando vi dicevo all'inizio, purché questa cosa non si faccia l'anno prossimo. Perché non vogliamo essere, lasciamo perdere, titolo quinto, poteri concorrenti, poteri delle regioni, antilocali, stato centrale, eccetera, eccetera. È un'ulteriore complicazione, almeno in termini di tempo e spero solo di tempo e non anche di merito, dell'architettura che governa l'Italia, insomma, l'architettura di poteri che governa l'Italia, che spesso su problemi urgenti in genera da sé una situazione veramente di eccessiva lentezza, mettiamola così. Allora, appunto, su questo tema andrà investito il Parlamento, da quello che ci ha appena detto Giordano, quindi creare un po' una sorta di movimento d'opinione. Mi sembra che su questo, tra l'altro per i diretti interessati, ci siano delle buone premesse. Insomma, vi vedo tutti abbastanza uniti e concentrati sull'obiettivo. Prego, dottor Giordano. Giordano. È stato detto prima che ho messo il dito nella piaga, questo è vero, ma una delle piaghe, il dottor della Porta da par suo ha fatto un'analisi e ha messo il dito in un'altra piaga, che ovviamente purtroppo è una piaga purulenta che bisogna curare al più presto, cioè quello del tipo di assicurazione. Allora, vorrei ricordare con una così ideale linea di congiunzione fra quello che dice il Presidente Luciano e il dottor della Porta, in cui si parlava prima di costituzionalità di questo regime. È ovvio che noi abbiamo davanti un tema di correttezza istituzionale nei confronti degli operatori sanitari, perché le assicurazioni private calcolano il premio assicurativo in base al tipo di rischio e all'entità del rischio, all'indice di rischio, ovviamente, come per tutte le assicurazioni, mentre l'assicurazione pubblica ha un altro parametro che non è quello di mercato, è quello di copertura per la qualità del rischio e comunque di una copertura assoluta di indennizzo per ciò che si verifica nella vita del lavoratore. La differenza è enorme, perché nel primo caso noi lanciamo questa categoria categoria nel mercato assicurativo, che ora avrà una altissima impennata. Ora il rischio è altissimo, facendo un paragone con le assicurazioni per la responsabilità civile automobilistica, oggi il bonus-manus della categoria sanitaria schizzerà in alto per tutti i rischi e per quello che si verificherà e quindi anche i premi assicurativi, cosa che invece con l'assicurazione pubblica non si può verificare, almeno non secondo questi criteri di mercato. Questo rende quello che è stato detto meglio di quanto l'abbia detto io prima e dopo di me, da Luciana nella porta, rende ancora più urgente un intervento normativo di questo tipo, perché è un atto di solidarietà verso una categoria che in questi giorni viene definita di eroi. A me piacerebbe che i medici e gli operatori sanitari non fossero né eroi né vittime di alcuno, ma fossero semplicemente garantiti come operatori, come professionisti, come lavoratori. Bene, parole molto chiare, insomma, non si può stare lì a discutere, ma bisogna mettersi al lavoro affinché questa situazione venga, non dico sanata, perché sembra un bisticcio di parole, ma resa appunto giusta nella sua concretezza. Della porta, non so se vuole aggiungere qualcosa rapidissimamente, stiamo per chiudere. Sono stati abbastanza esattivi. Esatto, esatto, ho avuto questa sensazione. Grazie a tutti a tre e buon proseguimento, a risetterci alla prossima. Grazie. Buona serata. Grazie a voi. Buona serata. Grazie, buona serata.